La terza classificata alla prima edizione di The Best Signori, signore e signori La terza classificata risponde al nome di Linda Severino E' stata una bella serata Facciamo ancora un grande applauso a tutto lo staff Pepe Verde La pazienza che hanno avuto La pazienza che avete avuto voi per rimanere qui fino alla fine Per sentire il nome del vincitore del MES 2016 Margaglia Grazie a tutti.